L'abbiamo visto impegnata nel realizzare qualcosa di particolare. Una volta si vedeva spesso ma oggi sempre meno. Nel nostro ambiente per fortuna si vedono ancora, chiaramente è un ambiente un po' chiuso, ristretto, però come me, anzi molto più bravi di me, ce ne sono tanti anche in Sicilia, ho colleghi con cui ogni tanto ci incontriamo per degli stage formativi. Per la stragrande maggioranza delle persone è quasi inusuale questo, perché una volta nei paesi era più facile vederli. Però diciamo che nonostante l'avvento del ferro prestampato, ancora molti di noi in alcune circostanze preferiscono forgiarli, perché c'è sempre quel fascino. Oltretutto è quello di fare delle scarpe proprio su misura per le esigenze di quel determinato cavallo. L'abbiamo vista realizzarne già uno, adesso continuerà. Sono tutte e due in forgia, sto lavorando su tutte e due, una in una fase un po' più avanzata e l'altra, però diciamo fra un quarto d'ora, 20 minuti al massimo saranno tutte e due pronti. Come si parte? Si parte da un pezzo di ferro? Adesso questo è in alluminio, è una misura strana, però si parte da una verga di ferro così, o di alluminio, se si vogliono fare in alluminio. E dopo c'è tutta una procedura, nel caso specifico abbiamo preso prima le misure sul piede, in maniera tale che poi io so già quanto tagliare la verga. E poi da quello ci sono diverse fassi di lavorazione in base al tipo di ferro che si vuole fare. Però diciamo che il punto di partenza è questo, con vari attrezzi, martelli, righe, stampe, controstampe, si utilizzano per fare l'arrigatura nel ferro, per fare la sede per i chiodi e quant'altro. Noi diciamo itineranti abbiamo la forgia a gas, chi lavora ancora in bottega, o meglio una volta veramente c'era solo la bottega, si utilizzava la forgia a carbone con il carbon coke. Che dà un potere calorifico anche maggiore rispetto al gas, però chiaramente per praticità non possiamo portarlo in giro e abbiamo questo gas. Lei come ha imparato? Io questo lavoro in maniera semiseria l'ho iniziato dopo 40 anni, a 40 anni compiuti. E ho iniziato non seguendo nessuno ma quasi da autodidatta, però ho avuto lo stimolo di partecipare a quanti più stage formativi, convegni e quant'altro, perché bisogna sempre partire dal presupposto che quello che sai non è quello che c'è da sapere, quello che sai non basta mai. Quindi questo è il mio percorso personale. Purtroppo in Italia c'è un vuoto per cui mancano delle scuole di mascalcie, così come esistono in altri paesi esteri, Inghilterra, Germania e così via dicendo. Chi non è del settore magari si chiede perché deve essere collocato nello zoccolo del cavallo? Allora, qui ci sono diverse scuole di pensiero. Ultimamente si sta consolidando sempre più la teoria del cavallo scalzo, ma il cavallo scalzo è semplicemente un cavallo che non può essere costretto a fare un determinato tipo di lavoro, una certa mole di lavoro, altrimenti lo zoccolo comunque va protetto dal consumo, dall'eccessivo consumo. E poi c'è anche un altro aspetto che siccome nell'uso sportivo del cavallo ci sono tantissime discipline, per ogni disciplina c'è una scarpa, un ferro adatto per quella disciplina. Questo è un ferro prestampato che lo fanno di fabbrica, è un ferro anteriore, si differenzia dal ferro posteriore perché solitamente il piede anteriore del cavallo ha una forma un po' più rotonda e quello dietro è un po' più affusolato, quindi cambia la forma. Ci sono le righe su cui poi vanno alloggiati i chiodi, questa è una misura un pochino grande per questo ferro, ma giusto per far vedere un esempio. Quindi ci sono le stampe, c'è la riga, la riga è una stampatura anglosassone. La riga è in modo utile allorché bisogna togliere un chiodo c'è un attrezzo specifico che lo prende e lo tira fuori. Se non ci fosse la riga sarebbe molto più difficile fare questa operazione qua, perché poi c'è la stampatura latina dove non c'è la riga e ci sono solo le stampe, cioè i buchi per alloggiare il chiodo. Fondamentalmente si divide in quattro parti, punta, mammelle, quarti e talloni, così come il piede. Questa è la barbetta che solitamente negli anteriori si posiziona in punta, ma potrebbe anche posizionarsi lateralmente, quindi due, perché serve a bloccare quello che vengono chiamate forze tangenziali. Quando il cavallo appogge il piede a terra c'è una sede per cui non può più andare oltre il piede, altrimenti la forza andrebbe a gravare solo sui chiodi e il ferro si potrebbe spostare. Queste danno stabilità, danno solidità alla ferratura, alle barbette. Ma il cavallo non si fa male durante la ferratura? Questo se si fa male è perché noi non siamo abbastanza attenti, quindi c'è un'imperizia. Viceversa c'è una porzione di unghia assolutamente morto ed è lì che bisogna lavorare, ed è lì che bisogna infliggere i chiodi. Infatti la stampatura viene fatta molto vicino al bordo, chiaramente non viene fatta qui, perché se dovesse essere fatta qui appena entri il chiodi vai nel vivo del piede. E quindi c'è una zona che si chiama linea bianca, muraglia, linea bianca e suola, i chiodi devono entrare nella linea bianca e se non c'è un errore da parte del maniscalco il cavallo non sente nulla. Così come quando lo appoggiamo un pochino a caldo per far combaciare il tutto, lo appoggiamo a caldo, fa un po' di fumo, ma ripeto, se noi abbiamo fatto un pareggio rispettoso del piede, non siamo andati oltre, lo mettiamo alla temperatura giusta per il tempo giusto, il cavallo non sente nulla. Al massimo si può spaventare del fumo. Buonasera a tutti, sono Vienica Loggio, rappresentante dell'associazione Ipponebrus e Quadri Rocca di Caprileone. Oggi state organizzando questo evento tre giornate dedicate al mondo dei cavalli. Sì, abbiamo sposato questo progetto di nebro di albergo diffuso, stiamo facendo questa prima giornata, sono tre giorni, stiamo facendo questa prima giornata a favore dei bambini, perché i bambini ci tengono, l'abbiamo fatto tutti gli anni, ma in particolare quest'anno stiamo facendo questa giornata per i bambini, le Pony Games, che facciamo fare i giri con i cavalli ai bambini qua nel campo. Proseguirà domani la giornata, domani sera ci sarà il Gran Galà, che ci sono artisti a livello, posso dirlo chiaramente, a livello anche mondiale. Ci sarà Bartolo Messina, che è l'unico spettacolo qua in Sicilia, poi ci saranno anche artisti locali come Carmelo Lo Cicero, Veralo Forti, poi ci sarà anche una carrozza con un quaretto siciliano. Comunque facciamo vedere molte discipline a cui c'è attaccato il mondo del cavallo. L'obiettivo è quello di avvicinare sempre più persone a questo mondo? Certo, l'obiettivo nostro è questo, l'obiettivo nostro è stato sempre questo qua, avvicinare tutti al mondo del cavallo, che è un mondo a sé, diciamo che è uno sport come tanti, però è molto difficile magari avvicinarsi al cavallo, perché il cavallo non è come una moto che tu la metti là, no, il cavallo si deve accudire, si deve dare da mangiare, cioè praticamente tutti i giorni si deve dare cura a questi magnifici animali. Ecco, tutto qua. E questo lo facciamo capire anche giorno 3, che continua la manifestazione, facendo vedere come si cura un cavallo, come si sella un cavallo, come si addestra un cavallo, perché non è solo andare a cavallo. dietro ci sono anche molte, ma c'è una molla di lavoro che purtroppo si deve anche fare. Ecco, per portare un cavallo a certi livelli bisogna fare molto, ma molto lavoro. Tra le varie attività c'è quello appunto che porta avanti il maniscalco, oggi lo vediamo presente qui, che sta realizzando i ferri direttamente dal vivo, in maniera artigianale. Sì, noi qua abbiamo Domenico Bertolami, che è un maniscalco, anche un caro amico, diciamo, ecco, che ci sta facendo vedere come si forgia un ferro per fare, cioè una bacchetta di ferro, che potrebbe essere di acciaio, potrebbe essere di ferro, potrebbe essere anche di alluminio, forgia questo ferro per mettere poi il ferro a un cavallo per poter camminare, per fare le varie discipline. Ecco, quindi, e per portare un cavallo, dicevo, c'è una molla dietro di lavoro, anche per ferrare un cavallo bisogna imparare il cavallo a stare fermo, bisogna imparare un cavallo a farsi ferrare, perché non è che uno prende un cavallo, dici lo ferro, gli prende un pietre. No, purtroppo ci sono dei lavori dietro che tutti i giorni, noi giornalmente facciamo un cavallo per far capire che gli stiamo facendo fare una determinata cosa che non è nella loro natura. Ecco, perché il cavallo nasce libero, poi siamo noi che lo portiamo a metterci a cavallo, fare determinati tipi di lavori e quindi bisogna lavorarci sopra con molta fatica e molta esperienza. Ecco, tutto qua. E noi stiamo facendo vedere un po' tutto quello che riguarda questo magnifico animale. L'amministrazione comunale ha deciso di riproporre questo evento, tre giornate dedicate al mondo del cavallo, avete scelto intanto il parco suburbano? Sì, abbiamo scelto il parco urbano perché è il fiore all'occhiello del nostro paese, una location che si presta molto a questo tipo di evento che stiamo andando a fare. Voglio ringraziare l'associazione Ipponebrus che sta curando questi tre giorni di fiera cavalli, come l'abbiamo chiamata, con lo spettacolo importante che sarà giorno due, che ci sarà, come ha detto il Presidente Pocanzi, la presenza di Bartolo Messina, che dopo sette anni ritorna in questo parco urbano, dopo sette anni ritorna in Sicilia. Siamo molto contenti di ospitare tutti questi grandi artisti, anche quelli locali. L'amministrazione comunale è sempre disponibile per promuovere eventi di questo genere. Questo evento possiamo dire che chiude il cartellone estivo? Sì, questo è l'evento che domenica chiude il programma estivo. Un programma fatto, abbiamo iniziato il 15 luglio con l'apertura del Sicil Food, poi abbiamo avuto l'evento dello Street Food come primo anno qui a Rocca di Caprileone, e tantissime serate, circa saranno state 42-43 serate per tutto il programma estivo. Abbiamo cercato di accontentare qualsiasi fascia di età dei nostri cittadini. E niente, speriamo che per domani che sarà il nostro grande evento di un pubblico numeroso che riempirà il parco urbano di Rocca di Caprileone. Stiamo prendendo le ultime misure? Sì, giusto per capire una piccola modifica. Dobbiamo fare su questo e poi... Sì, giusto per capire una piccola modifica. Sì, giusto per capire una piccola modifica. Ok, così può bastare. Tutta la parte bruciata, dove zoppolo e ferro combaciano. Quindi abbiamo preso in qualche modo le misure per sapere se è perfetto? Sì, le misure io già le vedo dall'impronta che mi lascia il piede sul ferro, quindi io già so se è troppo largo, se è troppo stretto. In questo caso siamo precisi. E questa è l'impronta che il ferro caldo lascia sul piede e combacia tutto quanto. Poi lo andiamo ad inchiadare. Le puntine in tungsteno funzionano da antiscivolo sull'asfalto. Poi lo andiamo ad inchiadare. Poi lo andiamo ad inchiadare. Poi lo andiamo ad inchiadare. con questo attrezzo che si chiama Incassino. Una volta faccio questa, una pinza particolare si chiama Tirachiodi. Ha girato il pioglio. Quindi lasciamo tutto giurito. Allora, solitamente l'unglio deve conservare il giusto grado di elasticità. È un motivo per cui spesso si mettono degli unguenti, dei grassi, degli oli, come ho sto appoggiando in questo momento. Danno un aspetto finito, bello, ma nello stesso tempo ammorbidisco l'anglia. Lavoro ultimato, quindi? Lavoro ultimato. Sono soddisfatto di quello che ho potuto fare considerando le circostanze, perché fondamentalmente è un ambiente un po' più tranquillo. Con il cavallo che è anche più rilassato, tutto il lavoro alla fine viene meglio. Però, tutto sommato, insomma, sono contento di quello che sono riuscito a fare. Qui abbiamo invece un ferro... Questi sono i ferri che aveva sotto il piede del cavallo prima che io lo ferrassi. Sono consumati praticamente? Ma non più di tanto, devo dire, però chiaramente per l'occasione abbiamo fatto dei ferri apposta per fare la dimostrazione. Portano fortuna questi? Allora, qualcuno dice di sì e bisognerebbe attaccarli così, per portare fortuna. Perché dicono che Alcantrano non funziona. In ogni caso, la leggenda più accreditata che descrive appunto questa capacità di portare fortuna è quella che si narra che un re facesse forgiare e facesse ferrare il proprio cavallo con dei ferri in oro. Se non che capita anche molto di frequente che il cavallo possa perdere un ferro e il contadino poveraccio che lo ha trovato, fondamentalmente, ha trovato un ferro d'oro. Da qui la leggenda che portino fortuna, perché chiaramente trovando l'odore è una fortuna. E questo è il concetto. Grazie. 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 Grazie.